Quanto costa quello lì? Non ho la minima idea, cosa ne dice lei? Quanto costerà? Ma scusi, lei non è il... No, non sono. Comunque ci consiglio ugualmente di comprare questo bicchini, sembra fatto apposta per lei. Già, ma chissà quanto costa, io non... Ah, ah, comprare senza soldi è sempre un'impresa difficile. A meno che non si trovi qualcuno disposto a regalarcelo. E questo qualcuno sarebbe lei? Ammettiamolo, se io ce lo regalassi... Allora lo prenderei e le direi grazie. Se io fossi la Befana, allora sarebbe tutto regolare. Ma dal momento che non lo sono, io te lo regalo, ma... A una condizione. Che io però non accetto. Fai male, perché io non sono la Befana, ma... Nemmeno l'orco cattivo, la mia condizione è accettabilissima. Io te lo compro, però te lo metti davanti a me. Ma naturalmente, è a casa sua, vero? No, anche in cabina. Però lei non si leva gli occhiali. Fa pure con calma, non c'è nessuna fretta. Però lei doveva tenere gli occhiali. Qua non c'è mica il sole, Stella. Guardi che se si avvicina urlo. Ma io sono un gentiluomo. Lo sapevo. Mi dispiace tanto, ma i fatti sono fatti. Se ne cerchi un'altra.